Siamo in diretta dalla prefettura di Mie per il Gran Premio del Giappone. La gara che si tenne qui nel 2015 fu una dei soli 5 Gran Premi della storia senza alcun ritiro, anche se, vista la griglia di partenza di oggi, dubito che la storia si possa ripetere. Un giro di questo storico circuito copre 5,8 km. È l'unico circuito a 8 del campionato. I piloti dovranno fare i conti con la forza G attraverso queste 18 curve, raggiungendo le velocità di punta mediamente più alte del mondiale di Formula 1. Occhio ai sorpassi lungo la chicane finale. Un caldo benvenuto a Luca Filippi, che mi affianca in cabina di commento per l'evento di oggi. Bene, vorrei chiederti di Dico Huckerman. Certo, hanno dovuto sostituire il cambio. Una penalizzazione in partenza non è mai un buon inizio per un Gran Premio. Beh, penso che sia meglio soffrire adesso che fermarsi a metà gara. Speriamo riesca a sfruttare al meglio il nuovo cambio e che ottenga i risultati che cerca. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Il giro perfetto di ieri di Leo E.S.M. è dove gli è valso la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Per quanto riguarda il resto della griglia, Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Grosjean e Kimi Raikkonen completano la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista! Puoi ancora vincere il campionato piloti? Devi dare il massimo nelle ultime cinque gare. Bene, con questo giro cerca di provare l'apporto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se vi è possibile. Grazie a tutti! Le condizioni sembrano stabili, al momento non è prevista più una. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Grazie a tutti! Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Grazie a tutti! Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Grazie a tutti! Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.